Si chiama Autobiografia di una città, il progetto coordinato dall'Associazione di Cultura Fotografica Macula che porterà a raccontare 13 quartieri pesaresi in un lungometraggio e in una finestra visiva in cui verranno esplorati luoghi nascosti, rigenerati, sentimenti e prospettive identitarie che emergono dai rioni cittadini. La città ha proposto un bando come quartiere capitale della cultura per Pesaro 2024 e in questo bando praticamente dovevano partecipare solamente un quartiere, avrebbe vinto solamente un quartiere ma cosa hanno deciso fortunatamente? Invece di essere in competizione i quartieri si sono messi in cooperazione e quindi hanno deciso di partecipare insieme. Dopodiché l'idea era quella appunto di che cosa raccontiamo della città e noi come Macona abbiamo proposto questa autobiografia di una città e tutti i quartieri sono stati molto piacevolmente sorpresi, coinvolti e gli è piaciuta questa idea. A realizzare il film dedicato ai 13 quartieri la regista Mauro Santini per un progetto attualmente work in progress che sarà proiettato in autunno al Cinema Astra. La autobiografia di una città significa anche coinvolgere i cittadini dei quartieri nella realizzazione stessa del film e quindi il nostro sguardo sui quartieri, sui luoghi, sui loro volti e voci deve divenire assolutamente anche il loro interno al quartiere quindi il racconto di ciò che vedono e ascoltano dai loro balconi, dalle loro finestre e quindi i cittadini dovrebbero, e spero che questo avvenga, concorrere insieme a noi a raccontare ciò che ci gira intorno che è un po' il compito principale di chi si occupa di quello che chiamiamo cinema del reale e dunque credo che sarà un ritratto che è in grado di stupire anche molti pesaresi che pensano di conoscere a fondo la propria città e che invece troveranno dei luoghi altri rispetto a quelli del loro vivere quotidiano. A precedere il film ci sarà però un momento preliminare, quello di una mostra che sarà inaugurata sabato 29 giugno allo Spazio Sora una finestra visiva realizzata dallo sguardo degli studenti dell'Istituto Isia di Urbino e dal titolo 13 quarti. Ci sarà proprio appunto questo lavoro di questi ragazzi che attingendo da questo materiale dei quartieri hanno rinterpretato attraverso questo sguardo un po' fresco, un po' nuovo perché noi dobbiamo pensare che in qualche maniera quando noi viviamo la nostra città a volte il quotidiano ci sfugge, non è più sorprendente come si suol dire, ormai diventa parte di noi stessi e osservare invece lo sguardo di questi ragazzi che vengono da diverse parti d'Italia con uno sguardo nuovo, con uno sguardo fresco e anche sorprendente dà anche a noi l'opportunità di rivedere, di riscoprire questa Pesaro inedita. Perché è inedita? Perché a fianco, diciamo così, di una Pesaro che è già conosciuta con i propri luoghi storici, con i propri paesaggi, diciamo così che però tutti ormai noi conosciamo in maniera più approfondita c'è invece questo aspetto un pochettino più nascosto questi luoghi un po' segreti, questi luoghi così che sono appunto non visibili da tutti noi diamo questa opportunità sia al fruttore ma anche a noi stessi pesaresi di riscoprire questi luoghi.